buongiorno bentornati in un nuovo video oggi vi faccio vedere questo sito che si chiama desideri magazine se mi seguite da da un po di anni sicuramente l'avrete già sentito nominare perché è un sito che vi permette di fare diverse cose fino a un po di anni fa si potevano scaricare e stampare anche dei buoni sconto sui prodotti png adesso per il momento non è possibile però la cosa principale è che si possono provare dei prodotti grazie come vedete qua al club dei desideri ovviamente non è una cosa continuativa quando hanno dei prodotti a disposizione mettono un progetto se si viene scelti appunto si possono provare i prodotti gratuitamente adesso invece la cosa principale le cose principali sono tre i concorsi le promozioni e la raccolta punti allora vi faccio vedere intanto velocemente la pagina del sito io sono già loggata e appunto come vedete vi ricorda qua che il sito è diciamo un'iniziativa della png se andiamo su club dei desideri che appunto la cosa che vi dicevo per provare i prodotti vi si apre appunto questa pagina dove vedete se vado su area personale se ci sono dei sondaggi da fare li potete fare in modo che loro sanno quali sono i prodotti più adatti per per voi poi c'è lo stato dell'attività dove sono tutti i sondaggi che ho che ho compilato e come vedete sono tantissimi perché sono tanti anni che sono iscritta qui nel home page ci sono appunto alcune opinioni sui vari progetti e questi sono appunto i progetti terminati ad esempio l'ultimo che ho partecipato era l'anno scorso nel 2020 e ho partecipato a questo qui per herbal essence che tra l'altro vi consiglio perché è veramente veramente buono gli ho provato esattamente questo questo blu ce ne sono di diversi tipi qui vi ricorda tutti i marchi e poi c'è una sorta di blog con vari con vari appunto argomenti però andate su collection e vi si aprirà quest'altra pagina dove appunto c'è questa questa altra sezione del sito che si chiama appunto desideri collection dove vengono racchiusi i premi i concorsi che sono o che ci sono in atto più le promozioni e poi le recensioni io mi voglio soffermare un attimo sulle promozioni perché c'è una prova interessante di cashback in realtà ce n'è più di una ma in questo video mi concentro su questa però prima vi faccio vedere il sito molto velocemente allora qua in un page abbiamo le cose le ultime notizie diciamo ad esempio adesso c'è la possibilità di vincere chili per un anno dal valore di 120 euro e poi qui appunto come vi dicevo ci sono sia concorsi sia raccolte punti questo è uno dei concorsi praticamente acquisto un prodotto png gioco lo scontrino e prova a vincere questo kit del valore di oltre 60 euro quindi semplicemente caricate la foto dello scontrino e vi esce una sorta di slot machine magari mi metto qui in basso un piccolo riquadro che ho fatto ho ripreso quando ho giocato io lo scontrino e vi esce fuori una sorta di slot machine e vedete se avete vinto o no però poi ad esempio in quel caso avevo perso però comunque potete giocare lo stesso scontrino da quest'altra parte e praticamente compiendo alcune azioni si va a fare la raccolta punti come vedete inizia la collection questo ve lo faccio vedere ed è una vera e propria collezione una raccolta punti semplicemente acquistando i prodotti png andando inserire lo scontrino ma questo è solo un modo ogni volta che caricate uno scontrino avete 300 punti desideri potete caricarne fino a 14 poi abbiamo i sondaggi fino a 10 sondaggi per ottenere 200 punti desideri può capitare che vi arrivino anche a supermercato ad esempio mi è arrivato con un coupon catalina al bennett un codice da poter inserire e avere dei punti 50 100 dipende da quello che vi capita poi potete anche invitare un amico i primi due che si iscrivono vi faranno guadagnare 50 punti desideri vi faccio vedere il mio codice che è questo qui aiutate a ad avere 50 punti se trovo anche qualcosa dove mettendo questo codice anche voi potete ricevere dei punti non lo so poi torniamo un attimo indietro e qui vedete che potete anche scrivere fino a 5 recensioni e ottenere 150 punti faccio vedere i premi sfoglia catalogo e sono 2000 punti avete o il 20 per cento sul candle store oppure 10 euro su guzzini 3500 punti photo service 30 per cento o 15 euro sconto chicco 5000 punti desideri abbonamento trimestrale digitale oppure un good mood un ebook a scelta 7000 punti una box desideri una desideri box casa una lui o una lei quindi scegliete una di queste e appunto in questo set troverete unstoppables lenor spring 140 grammi dash pods amber 15 capsule fairy platinum fairy platinum molly 1 16 capsule per lui gill skin guard rasoio 2 up head and shoulder shampoo da 225 ml ora il b identifico pro repare se la box per lei e abbiamo pantene versus maschere per e pro e pro e pro tec 300 ml nuovo venus original olaz 3 pt re genesi da 15 ml az 3d white lux perfezione la parte succulenta invece sono le promozioni quindi clicchiamo su promozioni allora io vi farò vedere questa pantene 1 più 1 allora qua ci sono varie promo ad esempio questa qui è solo per la partita iva quindi noi non possiamo partecipare poi appunto ce n'è un po per tutti i brand della png quindi c'è oral b pantene poi c'è herbal essence le stelle del pulito poi c'è ancora oral b testine questa per la partita iva questa per la partita iva poi abbiamo 10 euro spesi uguale a un buono spesa da 4 euro e questa specifica del carrefour può essere che ci sono delle delle promo sempre png però sono esclusive di alcuni insegni di supermercati quindi ad esempio in questo caso carrefour az poi ho partecipato a questa dash leno riunione perfetta 100 per cento è rimborsato poi ve la faccio vedere in un piccolo video a parte sono diventa veramente lungo questo video già parlato troppo poi brown selfie e vinci allora veniamo alla promo pantene 1 più 1 in basso vi metterò come si gioca lo scontrino perché ho già registrato il video che sto facendo adesso però non è partito il microfono comunque la promo è molto molto semplice si tratta di una promo a cashback parziale in questo caso perché le promo cashback che possono essere o complete quindi totali di quello avete speso parziali oppure fino a una certa soglia in questo caso è parziale allora qui abbiamo partecipa regolamento desideri collection la promo è estremamente semplice si comprano due prodotti pantene e il più caro è gratis quindi veramente semplicissimo e si chiama pantene 1 più 1 valida dal 27 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 bisogna conservare lo scontrino e completare la procedura richiesta del rimborso entro sette giorni se non fate questo entro sette giorni rimborso non vi arriva se avete qualcosa da chiedere questo qui è l'indirizzo email allora cose importanti se lo scontrino non è parlante o comunque in generale vi consiglio di tenere i codici a barre oltre lo scontrino in modo tale che avete una prova perché potrebbero essere fatte delle verifiche entro sette giorni da fare la procedura e penso che sia abbastanza ovvio ma non utilizzare una carta dove avete il grosso dei soldi ma utilizzare una carta che usate per fare solo gli acquisti nell'info box vi lascio link o codice sconto non mi ricordo sia della carta IAP sia della IAP potete scegliere quella che volete sia io che voi utilizzando questo codice riceverete dei soldi se usate il mio codice quindi sia io che voi riceviamo dei soldini quindi andate pure a vedere se usate il codice grazie e ad esempio io ho trovato al Bennett un'offerta abbastanza buona anzi quasi incredibile nel senso che ho trovato lo shampoo questo qui grande da 600 ml a 3,99 io ne ho presi due e quindi mi verrà rimborsato uno di questi due quindi in pratica un litro e due di shampoo l'ho pagato solo 4 euro quindi direi che è un'ottima promo io ho scelto due shampoo però potete scegliere altri prodotti come le ampolle oppure la maschera, il balsamo, le gocce potete scegliere quello che volete nella procedura vi verrà richiesto di mettere la foto e niente vi arriverà appunto l'imborso io ho scelto di avere l'imborso su IAP e niente quando arriva magari faccio un piccolo video di qualche secondo giusto per farvi vedere che è arrivato io ho già partecipato come vi dicevo ad altre promo della PNG anche in passato e mi è sempre arrivato tutto quindi anche se non ho la prova che arriva il cashback sono tranquillissima perché è sempre andato tutto bene e niente quindi vi ricordo giù di sotto tutti i miei codici per la IAP, la IPE, la DegustaBox, la Molino Bianco insomma tutto quello che posso darvi di codici sia che ricevo qualcosa sia che non ricevo qualcosa lo avete giù fatemi sapere se questi video vi interessano e ci vediamo al prossimo video ciao